Non ne sono pienamente convinto, ma... Facciamolo Già, non ne sono sicuro proprio per niente Ma comunque, benvenuti in questo nuovo appuntamento con Yokai Watch Puni Puni Dopo oltre un anno, nuovo episodio Sarà un unicum, quindi un solo episodio Non ne caricherò assolutamente altri, o meglio, per ora Magari fra un anno se ne riparla Nuovo livello, nuovo evento Più che nuovo livello Vabbè, sì, più o meno è anche un nuovo livello Non ho capito se va l'evento fionda, ma comunque I di Yokai nuovi sono sempre gli stessi, bene o male Comunque, farò il primo livello, vedrò cosa tratta l'evento Slottate a manetta e tanti cari saluti Faceva Katie? Ah, posso fare questo? Grande! Qualcun altro carico? Tutti carichi, che bello! Facciamo un po' una scampagnata di punti, allora Dai, dai, prima che si finisce, per favore Ah, quello era G-Bion, del settimo anniversario E poi ovviamente non può mancare Il mitico Velenotto Let's go, Skibroski! Vai, spacca tutto Oh yeah! Stanto per fare un po' di punti a gradimento Uh beh, insomma, dai, non sono male, eh 4 milioni di punti, eh? Fa pure lo Yokai amico Un ritorno alla grande, proprio No, non ritorno, unico episodio, calma Ah, ma c'è insomnia Eh beh, allora, signorina insomnia È giusto che io sia tornato per un'ultima partita Proprio con lei Eh beh, sì, scelgo 10, perché tanto Eh, dai Aspetta, posso affrontarla altre tre volte Perché mi ricordo che il gioco ti dava questa opportunità Ma passa subito a 650 punti Te l'hanno resa più difficile E allora si slotta per trovare gli Yokai di questo evento Let's go Vediamo un po' a chi mi capita Allora, siccome è tanto che non entro Ah no, il gioco non gliene frega niente Anche non entri da tanto al gioco non può fregar di meno Però c'è Mazra Mazra Z Beh, insomma, non mi fa schifo, eh Vai Altro Niente trombe che squilano Allora Una sola oro Bello, però Eh, tipo un drago Certo, perché ha le corna come i draghi I draghi cinesi, però Non so perché mai i draghi cinesi hanno le corna Non chiedetelo a me Non l'ho decisa io la mitologia Eccolo qua Dammi quest'arcobalino Qual è lo Yokai che si c'era al suo interno? È dell'evento per forza È dell'evento per forza Deve essere dell'evento No, io voglio quello Eccolo, vedi Ora il gioco mi dice Va bene Ti diamo quello dell'evento Doppia Doppia pallina Arcobalinis Ok Ah, questo è dell'evento Sì, perché È Benzaiten Sì, Benzaiten Però Dorata Luccicosa Non ne ho idea Va bene, va bene E poi Ah, quello di prima Vai Livello Energimax 2 Così, a gradimento Che bello Che squelino le trombe, signori Gli attori entrano in scena E vabbè, allora sì E allora entrano in scena sì Gli attori Una sola arcobaleno però Stavolta Allora, facciamo una cosa Dammene un altro Così arriva almeno al livello 3 DS Enchant Deep Space Enchant Ah, certo La trasformazione di Ranto Che diventa un Kirin Dai, dammi un altro Di quell'UZ E sono contento Come una Pasqua Ok Un altro Di quel Kirin Di prima Insomma, sta uscendo Rubina Che non è proprio Male Però Dicevo, no E ridammi Quell'UZ Di prima Senti Tremene Dai, dammi il quarto E facciamola finita, no Eh Non ho capito Davvero? Davvero? Neanche una oro? Però tu dici Escono i triple S Accontenta di No Non mi accontento Le triple S No Dai, ora squelito Le trombe angeliche No Non si può replicare Un'altra volta Niente da fare Bah Eh, però ti danno anche Gli Z Ora Cioè Siamo arrivati A un punto Talmente tanto alto Con i ranghi Che gli Z Sono diventati Praticamente Normali Diamo comunque Lo Z Anche a una slot Una multi Un pochino Così Un pochino Meno Carnosa Con meno carne Però Sempre lo Z Che c'è Oppure Come in questo caso Che non c'è per niente Però c'è uno Yoke nuovo Non mi accontento invece Ne voglio uno Dell'evento Allora Io Ora arrivo A duecentomila Mi fermo Poi Se non capita Niente Me ne vado A quel paese Beh Eccola Eccola Dammene Eh, dammene Due Gioco Però Chi la dura La vince Oh Dai 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 Chi si apre Per prima Questa è nuova È nuova È nuova Proprio lei Ma come Ma se lei È dell'evento E sta lì A prendersi Le botte Della fionda Scusami Perché Non dovremmo Vincerla Poi lì Ho ricordo male Io Nuovo anche questo Let's go Ski Oddio Ah Quel clown Certo Joker Grande Joker Non lo vedevo Delle tempi Di persona 5 Però A 200 Io ci arrivo Comunque E anche perché Poi Si scende Eh Già siamo scesi Troppo Calma Calma Beh Il gioco Basta L'hai detto Quindi fallo E io Mi fermo Qui Oh Che bello Ora però Andiamo a fare La squadra Per affrontare La fionda No Oh Allora Perfetto Ricevo nel bonus Dove è qui Dove è qui Non so quale Yokai Da il boosting Quale cosa Ma andiamo così Tanto è uguale No Secondo me Ben Zaiten Contro il boss Eh si Infatti Però Comunque Non è male Non è male Dai il danno Ci sta Ci sta Guddo Devo fare Guddo E anche questo Niente di che Mi faccio Perfect Invece Let's go Fatto Allora Dai Oh no C'è il boss Che bello Ah Ben Zaiten Nel boss Ma ragazzi Forse sono scemo io Ma una volta Questi yokai Non si prendevano Facendo il minigioco Arrivando a livelli Più alti Del minigioco Ora quindi Li danno anche Con la slot Va bene È meglio per me Ah si Lei dall'aiuto Ok Però Ho fatto Perfect Dai L'ho presi Tutti Ah Fatto Bene Ah 4000 Mi ha fatto Wow Oh Ma guarda un po Il livello 2 del nemico Di Ben Zaiten Let's go Sì forse Sì forse No Però insomma Dai Sempre buoni danni O fa Sconfitto Anche il livello 2 Ben Zaiten Ciao Però dai Anche il livello 2 di Ben Zaiten È fatto Siamo proprio Un ritorno No No Un one shot Alla grande Perché continuo a dire Ritorno Non è un ritorno È una partita Una tantum Beh Direi però Che il bottino Di oggi Non è stato Malvagio Sì Alla fine Ho dovuto spendere Un po' più di punti Per arrivare a prendere Anche altre Dell'evento Però Diciamo che Come unicum Come episodio unico Dopo un anno E più Ci stava All'ogni modo Per questo video È tutto E Non so se ne porterò altri Devo Devo essere sincero È stata Una voglia improvvisa Quella di giocare A puni puni Io ho voluto Farci il video Ok All'ogni modo In descrizione Trovate come sempre Tutti quanti Link utili Ci vediamo A prossimo Video Ciao 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 Ciao